Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù è sceso dal monte e giunto presso i discepoli livide circondati da molta folla e da scrivi che discutevano con loro. Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò, di che cosa discutete con loro? Gli rispose uno della folla, maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma di grigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora in risposta disse loro, oh generazione incredula, fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsione il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. Gesù interrogò il padre, da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose, dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce, credo, aiutami nella mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo, spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da lui e non vi rientrare più. E gridando e scuotendolo fortemente se ne uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano, è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Entrò poi in casa e i discepoli gli chiesero in privato. Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli disse loro, questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera e con il digiuno. Bene, fratelli, anche noi siamo scesi oggi, in questo lunedì, con cui ricomincia il tempo ordinario, dalla montagna, dal tabor, dalla contemplazione di Cristo trasfigurato. Abbiamo visto filtrare dalla carne di Cristo la sua natura divina, la sua vittoria sulla morte, il nostro destino, abbiamo visto in Lui, abbiamo contemplato in Cristo durante questo tempo pasquale, durante le liturgie, ascoltando la parola, nutrendoci dei sacramenti, celebrando ieri la Pentecoste, abbiamo contemplato l'impossibile che si fa possibile. Cioè che per chi crede, veramente tutto è possibile. Che cosa? Vivere da cristiani. Vivere il cielo sulla terra. Gustare le primizie del cielo, mentre camminiamo nella carne. Che significa questo? Significa amare, amare oltre alla morte. Significa prendere su di noi i peccati degli altri. Significa operare, opere di vita eterna, essendo nella vita terrena. Vivere l'incorruttibile in mezzo alla corruzione. Per questo oggi possiamo scendere dal tabor. Possiamo entrare con Cristo nella nostra storia, nella vita di tutti i giorni, in ciò che ci attende, la scuola, il lavoro, il traffico, i problemi della famiglia, le relazioni con i genitori, con i figli, col marito, con la moglie, con i colleghi, con la suocera, con il cognato, con il vicino di casa, dal droghiere, nella metropolitana, la malattia, le sofferenze, i problemi, i mal di denti, il portafoglio che si fa sempre più vuoto, le difficoltà di tutti i tipi, la precarietà. Noi possiamo entrare, in questo lunedì, possiamo arrivare alle falde del monte, rientrare nella, tra virgolette, routine, con una missione. Esorcizzare questa generazione che non crede. Abbiamo la tentazione, tutti noi abbiamo la tentazione, pur essendo, facendo parte di questi intimi, Pietro, Giacomo e Giovanni, che hanno contemplato la trasfigurazione, abbiamo la tentazione di essere irretiti, di essere assorbiti, sedotti dalla mentalità mondana, come gli altri discepoli che non erano stati su, con Gesù, sul tabor, e si sono lasciati irretire dalla discussione con gli scrivi. L'ambiente, l'ambiente può fagocitarci, fagocitarci, l'ambiente può sedurci, e possiamo diventare nevrotici, nevrotizzare, interiorizzare l'ambiente esterno, al punto che ci trasformiamo, trasformiamo la nostra mentalità, i nostri criteri, assimilandoli a quelli del mondo che ci circonda, della società, delle situazioni. E questo è il grande combattimento. Ma non è così, fratelli. Noi siamo stati colmati dello Spirito Santo, noi viviamo nell'intimità con il Signore, per questo dice ai suoi discepoli, nell'intimità, da soli, nella casa, nella comunità cristiana, che questo genere di demoni, questa generazione di demoni, questa specie di demoni, si può sconfiggere, scacciare solo con il digiuno e con la preghiera, cioè camminando nella chiesa, stando uniti a Cristo, difendendo la prima genitura, difendendo lo Spirito Santo, ascoltando la parola, e celebrando la liturgia del suo amore. Perché una cosa appare chiarissima, che da quando siamo piccoli, da quando sono bambini, dalla fanciullezza, da quando era piccolo, dice il padre, risponde il padre, e potremmo rispondere tutti noi, da quando, da quando tuo figlio, da quando tuo nipote, da quando quella persona, da quando quel fratello, da quando quel collega, da quando tua moglie, tuo marito, sono così presi, e posseduti, dal demonio che li irrigidisce nelle loro posizioni, che li impedisce di parlare, cioè di comunicare, di parlare quelle lingue nuove, che abbiamo visto ieri, che aderiscono esattamente, precisamente a ciò che è l'altro, diverso da te, a ciò che gli altri, ognuno nelle sue situazioni, ognuno nelle sue difficoltà, le sue sofferenze, possono ascoltare e accogliere, dall'infanzia, e questo è il punto che tocca Gesù, non si ferma alla diagnosi, vede gli effetti del male, quello che vediamo tutti i giorni nella televisione, in un parossismo terribile, che ci coinvolge, che ci angustia, che ci assorbe, e ci rende inquieti, mormoratori, e lottatori contro l'ingiustizia, e quindi incapaci di arrivare al punto, e di scacciare la radice, del male, di scacciare il demonio, è impossibile, noi abbiamo avuto il potere, gli apostoli hanno il potere di scacciare i demoni, se non lo possono, è perché si sono piegati alla mentalità mondana, si sono lasciati assorbire, e retire, allora, Gesù arriva al punto, è che nell'infanzia, cioè nel peccato, ci ha concepito nostra madre, noi l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo ascoltato, abbiamo visto che era vero, la nostra vita, e Gesù ha avuto il potere, nella chiesa, di strapparci dalla menzogna originale, dal peccato originale, cioè, siamo stati esorcizzati, nella comunità cristiana, come? Mediante l'ascolto della parola, vedete, questo ragazzo, è muto, dice il padre, ma Gesù dice, quando gli parla, quando gli intima di uscire, quando gli ordina di uscire, dice, spirito muto e sordo, perché la vera malattia è la sordità, è non aver ascoltato, non poter ascoltare, la parola, la predicazione, il kerigma, la buona notizia, la parola che ricrea, la parola che ha il potere di salvare, allora, quando uno si chiude, allora, ha deciso nel suo cuore, di continuare a compiere il male, questa è la verità, questi sono gli occhi di fede, che dobbiamo avere tutti noi, su noi stessi, sulle persone che sono accanto, e quello è il vero problema, non ascolta, non ascolta, quindi non mette la sua vita in gioco, non si mette in discussione, non si apre, non crede che qualcuno possa dirgli una parola diversa da quella che lui ha ascoltato dal demonio accreduto, il suo orgoglio, la sua superbia, ed è figlio di quel padre, che infatti dice, se tu puoi, il se, se Dio ti ama, non ti limiterebbe, se Dio amasse, non ti limiterebbe, l'inganno del serpente nell'Eden, ma lo stesso che ha dovuto subire Gesù, se sei figlio di Dio, perché ti accade questo, di che le pietre si trasformino in pane, eccetera, eccetera, se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce, ecco, questo se, è ciò che ha trasmesso, con la sua carne, con la sua sapienza mondana, il padre ha questo figlio, per questo questo figlio, sta posseduto, allora accettalo, accettalo caro padre, accettalo caro madre, accetta caro fidanzato, accetta caro marito, che tu generi, che noi generiamo tutti, figli, le nostre relazioni, tutta la nostra realtà, e figlia di questa menzogna, bene, dobbiamo ascoltare, nella Chiesa una parola capace, di esorcizzare, di aprirci, all'ascolto, taci, esci da quell'uomo, se non c'è questo incontro profondo con Cristo, non guariremo nessuno di noi, e noi avremo il potere di guarire gli altri, la Chiesa non avrà il potere di guarire gli altri, ma abbiamo questa missione, fratelli, e lo Spirito Santo l'opera in noi, lo Spirito Santo dentro di noi, ci dice, ascolta, quella è la parola vera, quello che ti pratica la Chiesa, quell'esorcismo che Gesù Cristo fa nella tua vita, è quello che tu desideri, è quello che è più adeguato a te, ascoltalo, e noi possiamo ascoltarlo, l'abbiamo ascoltato in questo tempo, per questo scendiamo, annunciando la stessa parola, incarnando la stessa parola, stendendo le nostre braccia, crocifissi con Cristo, accogliendo su di noi, il peccato degli altri, perché attraverso la croce si compie l'esorcismo, è quella la parola, è quello il dito, la mano di Cristo che ci risuscita, tu sei chiamato ad essere la mano di Cristo che risuscita, che ridesta alla vita le persone che ci sono accanto, e questa è la nostra missione, questo è il nostro lunedì, e questo è il nostro tempo ordinario, nel quale compiere lo straordinario, che tutto può, perché tutto può chi crede, chi appoggia la sua vita a Cristo, alla sua parola, alla roccia che è il suo amore, chi vive questo nella comunità cristiana, può sollevare e mettere in piedi, cioè dare una dignità alle persone che non ce l'hanno, ai poveri, ai piccoli, ai peccatori, cominciando da chi ti è accanto, forse il tuo figlio, coraggio, e questa è la missione nella quale siamo tutti coinvolti, non lasciarci coinvolgere dal mondo, ma vincere il mondo con la nostra fede, vincere il mondo con la fede della Chiesa, appoggiarci, aiutaci nella nostra incredulità, aiutaci, desideriamo credere, bene, suscitare questo desiderio di credere nelle persone, e questa è la nostra missione, la missione che hai con tuo figlio, con tuo marito, con il tuo fidanzato, suscitare questo desiderio, perché in te lui vede un testimone, un martire, l'esempio, la roccia, e la prova su cui fondare la propria vita, che cosa? Che a chi crede, tutto è possibile, può perdonare, può amare, può essere casto, può aprirsi alla vita, non è legato ai soldi, non è legato al prestigio, non si lascia assorbire, sedurre dal mondo, ma entra nel mondo con Cristo, per morirci e risuscitare, attenzione, le persone che sono accanto a noi, forse il tuo figlio, deve passare per questa morte, la morte dell'uomo vecchio, come un cadavere, dice che sembra come un cadavere, quando appare Cristo, quando appare un cristiano, il demonio comincia a sussultare, comincia ad agitarsi, comincia a spumare, perché? Perché non vuole accettare la verità, ma se tu hai una parola ferma, se la tua vita è incastrata in quella di Cristo, se tu vivi la vita di Cristo, se lo speso santo opera in te, vedrai che l'uomo vecchio che sta accanto a te, davanti a te morirà, ma non temere, non temere le sofferenze di tuo figlio, sta spurgando le opere del demonio, le menzogne del demonio, Gesù Cristo avrà il potere, ha il potere, di prenderlo e sollevarlo, coraggio, preghiamo e digiuniamo con la Chiesa, cioè digiuniamo da noi stessi, perché Cristo prenda possesso di noi.